Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod Oggi parleremo di un mod di giornata 1.8.7 molto interessante e molto semplice Che come già sapete è una vanilla mod Allora ragazzi, che cos'è, di chi è, chi l'ha fatta? Red Engine Arts, il nostro grandissimo italiano E gli è stata fatta pure la recensione da Minecraft Universe Quindi sta crescendo sempre di più Ok, allora andiamo a vedere i nostri saluti Prima di tutto, allora, Salvatore003 Game vs divertimento Tancredi Sorriso Matteo Salmaso Leo Giora Gamer Christian96 Ender Gamer 96 Alessia, praticamente la sua erla di Samuele Quindi Alessia Ascia Swill Sword 64 Francesco Wang Luca Mezzadri, penso, che si pronuncia Ghost Sparky 2004 Red 66 Daniel Zunino Cico Pio Filippo 88 Diego Musolino Madonna, quanti siete? Fabregas Scotti Stefano DJ Panza Gamer Gabri Gun Platino 960 Kevin Di Maggio Night Power TV E Diego Musolino No, già l'avevo detto Diego Musolino, vero? Sì, stava prima Ok, quindi l'ho ripetuto due volte Quindi si sono saluti di oggi ragazzi Ok, andiamo a vedere la mod Allora, allora, allora Come si chiama? Mountain and Floating Island Generator Mountain and Floating Island Generator Riuscirò a dirlo in inglese fatto bene? Non lo so Allora, cosa fa questa mod? Andiamo a vederla insieme Tiè, accenditi Mostrami cosa sai fare Allora, dov'è il pulsantino? Dove si clicca? Di qua o di là? Stavete che era di là Guarda Tadam Ok Remove right click Command MTN Island Generator By Red Engineer In basso ad essere sempre il suo sito La sua pagina di Youtube E tutto il resto per cliccare Ok Jet item Right click Signo for more info Ok Drop on the ground Stone block Grass block And block of cobles Storto craft Mountain generator Ok Quindi abbiamo detto Stone block Ok Grass block E cobblestone block Grass block Dove è il grass? E cobblestone block Cobblestone block Ok Ce l'abbiamo tutti e tre Quindi Ta Ta E Eccolo qua Ce l'ha dato Perfetto Abbiamo il mountain generator Mi sposto perché non voglio fare danni Sbam Oh che cosa Che mi stai dicendo Ha messo tutta la roba lì E mo la sta facendo cascare un po' Un po' Per fare Una montagna Serio? No raga State a guardare che figata Cioè È stupefacente Intanto qui si genera montagna Andiamo a vedere gli altri oggetti Che ci servono per fare gli altri Ehm Cosi che ci interessano Tipo floating island e simili Allora Andiamo un po' More info Ehm Drop a stone block Grass and feeder To craft in floating island Quindi Ehm Stone block Ehm Grass abbiamo detto E feeder Quindi Feather Eccola qua Perfetto Quindi Noi facciamo stone Grass E feeder Eccolo qua Si ce l'abbiamo fatta Si ok Pensavo che non l'avessi toccato Guardate ancora si sta generando È una cosa fantastica ragazzi Eccola Ha generato una montagna Guardate Così Così dal nulla Senza nessun Plugin Senza nessuna cosa specifica Con un solo comando Ragazzi E con questo solo comando Ci permette anche di creare L'isola volante Allora andiamo a vedere L'isola volante Ehm Eccola Ok È cascato solo qualche pezzo No Cascano lo stesso Ah Perché la genera Prima per terra E poi la solleva nell'aria Me sa Vediamo un po' Eccola finita Finita Vediamo un po' che succede No Ma ha girato la montagna No Eccolo L'ha girato L'ha girato Eccolo Guardate che figata Sopra Ha formato pure il laghetto Con la cascata d'acqua dall'alto Guardate che bello La ribaltata La generata E ci stanno anche i minerali dentro Ferro Carbone Diamante Smeraldo Tutti ad altezza Guardate che figata C'è Stupefacente Ragazzi Se volete creare una vostra dimensione Una vostra mappa E non volete andare a inserire Plugin O mod che permettono La creazione di isole volante O di montagne Dove volete voi Con un semplice comando Voi potete farlo Nella vostra mappa 1.8 in su Molto Molto Bello ragazzi Va bene ragazzi Vi ricordo sempre che questa è una mod fatta da Red Engineers Che è italiano Ricordiamo che questa è italiano ragazzi E niente Spero vi sia piaciuto Lasciate hashtag Udi Hashtag Inutile qua sotto O se vi piace ragazzi Lasciate tanti pollicioni Mi fanno capire che vi piacciono queste mod E tutta la serie delle mod in questo caso E ci vediamo la prossima puntata ragazzi Ciao ciao